Ti dà il cellulatore, grandissima sorpresa, un grandissimo Lady Marco Vorelli. Sì, buongiorno a tutti, siamo qui in Tennis & Friends, fuori italico. Purtroppo piove, il che significa che c'è meno affluenza, meno gente, però è comunque un invito a tutti quelli che si stanno seguendo, perché sia fino a stasera che tutta la giornata di domani, chi vorrà potrà sottoporsi a un controllo gratuito della tiroide e qui c'è tutto lo staff medico dell'ospedale Gemelli, quindi almeno sfruttiamo questa occasione per rilanciare il mondo. Ecco, ricordiamo, oggi 10 ottobre e domani domenica 11 ottobre, perciò vi attendiamo tutti quanti, oggi anche sotto la pioggia non ha fermato Neri, facciamo vedere la rana. Siamo, è che è stata in là, comunque oggi non era possibile tirarla fuori. Peccato. Alla prossima. Di nuovo.